Ciao amici di Mr. Gadget, tra i tanti confronti a cui ho voluto sottoporre HTC 10, non volevo far mancare anche quello con il suo predecessore HTC One M9, è cambiato il nome, insomma è stato un anno molto difficile per HTC, si arriva all'HTC 10 con delle prerogative importanti ma soprattutto con delle aspettative importanti da parte di HTC, vediamo insomma se i motivi di un successo molto limitato di HTC One M9 sono stati risolti nella nuova versione, intanto vediamo subito, mettiamoli uno accanto all'altro per notare una cosa, HTC 10 è leggermente più grande di HTC One M9, sono 145,9 millimetri contro i 144,6, anche nella larghezza 71,9 contro i 69,7 mentre ha guadagnato qualcosa HTC One M9 per quanto riguarda lo spessore 9 millimetri contro i 9,61 dello scorso anno, per quanto riguarda il peso siamo lì, HTC One M9 è leggermente più pesante, 161 grammi contro i 157. Allora, cosa è cambiato invece per quanto riguarda la dotazione hardware? Intanto il display è rimasto praticamente uguale, è leggermente più grande quello di HTC 10 con 5,2 pollici contro i 5 pollici che ci sono da questa parte e c'è anche una definizione molto diversa, no? Perché se da una parte c'erano 1080x1920 pixel, da questa parte invece siamo 1440x2560. Altra novità importante, 565 pixel per pollici, per pixel per pollici per quanto riguarda HTC 10 contro i 441 di HTC One M9. Non è stato uno stravolgimento esagerato come quello che Galaxy S7 ha già fatto, passando da 5,1 a 5,5, però insomma da 5 si passa a 5,2. La superficie, allora, mentre si era al 68,52% del totale su HTC One M9, si è passati al 71,13% del totale, che tutto sommato rispecchia quelle che sono le percentuali anche di altri prodotti. Molto spesso si parla di cornici enormi, in realtà insomma siamo lì. Una differenza fondamentale ovviamente è quella dei tasti funzione che sono passati dallo schermo, insomma la parte inferiore allo schermo, quindi è stato anche guadagnato maggior spazio. Io vorrei farvi notare, solo con luminosità automatica, in questo momento più o meno a metà della luminosità, i due display non brillano sicuramente per lucentezza e per leggibilità. Questa è una delle caratteristiche insomma che sono state mantenute rispetto allo scorso anno, cioè la scelta di una taratura con una luminosità, diciamo, di base abbastanza contenuta. Vi ho fatto notare forse una cosa, ve la faccio rivedere in questo momento andando al display, intanto che i display sono cambiati, vedete come sia diversa la caratteristica proprio del menu, avvicino forse leggermente l'immagine anche per aiutarvi nella leggibilità di questo dettaglio. Sono cambiate le scritte che vengono utilizzate nel menu di HTC 10, è stato resa un po' più ulteriormente elegante, diciamo, l'assenza che già comunque lo era anche in passato. Però quello che volevo farvi notare invece, che in realtà poi non sono riuscito a fare, torno alle impostazioni, è la diversa luminosità dei due prodotti. Guardate come siano diversi due bianchi, è buona la leggibilità e la luminosità dell'HTC 10, ma sembra quasi superiore al massimo la luminosità del telefono, insomma, che conosciamo bene, cioè quello dell'HTC One M9. Per quanto riguarda, ecco, il design e le scelte estetiche, vediamo un po' quello che è successo da un anno con l'altro. Non tantissimo, se devo essere sinceri. Entrambi i telefoni con l'inserimento della microSD da una parte e della nanoSIM dall'altra, attraverso sempre il famigerato cassettino che, insomma, viene utilizzato ormai da anni anche da HTC. È cambiato il pulsante di controllo del volume, erano due pulsanti separati, invece c'è il bilanciere, il classico volume rocker in questo momento, pulsante di accensione esattamente nella stessa posizione. Sulla parte inferiore compare uno dei due autoparlanti, perché il boom sound è stato realizzato in un modo diverso, il Type-C, USB Type-C, mentre l'anno scorso c'era microSD, abbiamo visto prima che è stato spostato invece l'attacco per le cuffie, che è nella parte superiore per HTC 10, era nella parte inferiore invece per HTC One M9. Parte posteriore, beh, qui c'è uno dei cambiamenti importanti, no? Perché HTC 10 riporta gli ultrapixel con 12 megapixel, mentre per quanto riguarda HTC One M9 c'era una fotocamera di Toshiba, un flop totale da 20 megapixel, anche la differenza in pixel è diversa, no? 1,55 contro 1,2, l'apertura anche tra l'altro è diversa, questa è una cosa importante, 2,2 da una parte e 1,8 dall'altra. Fotocamere frontali con un po' di novità, tra l'altro importanti, novità che riguardano da una parte c'erano i 4 megapixel con gli ultrapixel, da questa parte invece ce ne sono 5 di megapixel, ma qui c'è la stabilizzazione ottica delle immagini e c'è l'HDR anche sulla fotocamera frontale. L'HDR in realtà c'era anche da quest'altra parte, anche sull'HTC One M9 l'anno scorso, però diciamo che l'anno scorso HTC non era mai riuscita a convincere più di tanto per quanto riguarda la qualità proprio della fotocamera. Cambia un po' diciamo l'impatto della Sense, non tanto per quanto riguarda la grafica, ma per il fatto che sono state eliminate alcune delle applicazioni che sono tipiche di HTC, peraltro che non si possono installare non ufficialmente su HTC 10. Questo per evitare di avere molto bloatware, molto software che viene duplicato rispetto alla dotazione standard di Android. Altra differenza, HTC One M9 scelse lo Snapdragon 810, fu una delle ragioni per cui fu massacrato lo scorso anno, maltrattato anche dei recensori, si scaldava molto, aveva qualche difficoltà nella gestione della batteria, mentre il nuovo 820 è una sicurezza, una certezza. Curiosità, un octa-core come l'810 si è tornati ad un quad-core ma con un'architettura diversa, quindi con un migliore gestione di potenza e anche di consumi. Da una parte lo scorso anno c'erano 3 giga di RAM, quest'anno invece per quanto riguarda i nuovi prodotti, quindi l'HTC 10 ce ne sono quattro, la velocità del software non è mai stata un problema, bisogna dire che è sempre stata una delle caratteristiche principali di HTC. Vediamo, ad esempio, apertura della fotocamera, vedete come lo Snapdragon 820, già faccia vedere la sua superiorità anche in una cosa così banale come quella di aprire la fotocamera. Scatto, intanto razio 4 terzi per la fotocamera, scatto praticamente messo a fuoco immediati, anche per il vecchio HTC One M9 che tra l'altro nel tempo ha migliorato la sua fotocamera, scatto abbastanza veloce, qui io sono in modalità fotocamera RAW, adesso vado nella fotocamera normale per farvi vedere insomma il tempo di scatto che praticamente è identico, vedete, molto veloce. Risultato della fotocamera, vediamo subito la fotografia in entrambi i telefoni, vorrei far notare anche in questo caso, insomma, la differenza nella luminosità dei due prodotti, guardate, l'HTC One M9 ha una fedeltà dei colori che è superiore, guardate cosa c'è dietro, guardate cosa c'è dietro, la fedeltà dei colori di HTC One M9 è per assurdo superiore rispetto a quella di HTC 10. La qualità dell'immagine nel complesso, io vi ripeto, con i vari aggiornamenti è migliorata tantissimo. Guardate anche il colore della scatoletta come sia diverso e dietro avete l'originale, guardate come HTC One M9 sia assolutamente più fedele nella gestione del colore rispetto ad HTC 10. Una caratteristica che voglio farvi notare ovviamente è lo spostamento, ma quello non serve che ve lo dica io, insomma lo sapevate già, lo spostamento del boom sound, no? Il boom sound che prima aveva queste due case frontali che metteva molto spazio anche inutile sull'HTC One M9, è stato invece reso con una fotocamera che è incapsulata dentro la parte della capsula audio del telefono e quindi una cassa qui, una invece sulla parte inferiore, medio alti da una parte, bassi dall'altra e qui invece il principio era di queste due casse che lavoravano contemporaneamente a livello frontale, vedremo poi insomma a quale sarà la resa. Per quanto riguarda, io adesso ho risettato il telefono prima di fare la prova, quindi alcune funzionalità non le avevo ancora utilizzate, sottolino peraltro che non c'è la SIM dentro l'HTC 10 perché sto provando talmente tanti telefoni che non so più dove andare a pescare le SIM, vediamo insomma uno collegato alla rete telefonica, l'altro invece è collegato al Wi-Fi, ci vorrà un po' più di tempo per la connessione attraverso il Wi-Fi, qui la rete è molto più veloce invece con H3G con cui sono collegato in questo momento. Allora, vediamo soprattutto che in questo caso la resa anche qui si vede molto diversa dei bianchi e tra l'altro è un bianco quello di HTC 10 che secondo me è leggermente più chiaro, più scuro rispetto a quello riprodotto da HTC One M9. Tutto questo nonostante si abbia, pensate, una qualità che da quella parte è un display 2K, da qua invece solo un Full HD. Adesso non sto a farvi vedere le pagine che scorrono perché sarebbe veramente del tempo perso, volevo farvi vedere soprattutto la differenza nella riproduzione dei bianchi. Andiamo sulla pagina di Radio Number One da una parte e dall'altra, nell'intento speriamo di farcela, di farvi sentire l'audio. Mentre si carica la pagina su HTC One M9, io cerco di farvi sentire l'audio invece su HTC 10. Vi devo dire che insomma il volume è leggermente più basso. Adesso poi lo sentiremo. Buona la qualità, perché è assolutamente buona la qualità per il risultato di HTC 10, però il volume è leggermente più basso. Chissà perché la scelta di questo genere da parte di HTC probabilmente avrà le sue buone ragioni che magari scopriremo poi con il tempo. Probabilmente anche una questione di spazio fisico occupato per cui si emette meno volume. Certo c'è un'ottima qualità invece per quanto riguarda le cuffie, perché le cuffie di HTC 10 sono assolutamente strepitose nel loro funzionamento. Io trovo che siano assolutamente meravigliose. C'è una qualità davvero dell'audio fantastica in HTC 10 quando si ascolta l'audio in cuffia. Vediamo se ce la facciamo con la rete a vapore a sentire l'audio, perché questa credo che sia una comparazione importante. Sentite com'è diverso. Completamente diverso, pensate l'audio è in assoluto migliore, ma proprio di gran lunga migliore su HTC 10. In realtà risentendo da un po' di tempo ci accorgiamo che sull'HTC One M9 anche il buon sound non era venuto proprio benissimo. Cioè da questo punto di vista l'HTC One M7 rimane inavvicinabile per la qualità del suono che veniva prodotta. Quindi da questo, in questo aspetto, un passo in avanti. Batteria, 3000 mAh perdano avanti da una parte, 2840 dall'altra, non c'è paragone. HTC 10 vince 10 a 0 nella capacità di gestire l'autonomia e di ottimizzare anche i consumi. Legibilità del display, l'abbiamo visto anche in altri confronti. L'HTC 10 ha un display che si legge bene, con un buon livello di leggibilità e di angolo di visione. Anche tutto sommato l'HTC One M9 che è sempre stato un po' insomma maltrattato. Vedete che tutto sommato si comporta abbastanza bene. Le ricezione sono più o meno insomma allo stesso livello. Qualità dell'audio in capsula siamo veramente più o meno più o meno lì. Nella funzionalità, vedete, di tutti i giorni è cambiato qualcosa per quanto riguarda i colori base. Insomma, da una parte c'è il nero, dall'altra parte c'era questo grigio bluet che aveva proprio una caratterizzazione un po' diversa della grafica, però vedete che l'aspetto generale del telefono più o meno è quello. L'interfaccia Sense comincia a dare un po' il segno dell'età. Secondo me ci sono delle soluzioni. L'interfaccia è un po' più bella in questo momento in circolazione, ma la Sense rimane sempre un punto di riferimento molto interessante. Insomma, vale la pena passare da M9 a 10? Beh, insomma, credo che la risposta sia scontata, poi dipende ovviamente dalle vostre tasche, però i passi in avanti si sono visti. Credo però che a distanza di tempo si possa rivalutare un po' l'HTC One M9 che è stato un po' maltrattato, forse è uscito con un software un po' acerbo, nel corso del tempo è migliorato molto. Oggi forse potrebbe anche essere un'alternativa d'acquisto molto interessante, visto che si trova a prezzi davvero stracciati. Spero di aver risposto alla vostra voglia di confronto tra HTC One M9 e HTC 10. Sono a disposizione per qualunque domanda. Ciao!